ieri 22 marzo 2023 ho pubblicato questo video dal titolo arrivata la sentenza saltano tutte le multe per gli over 50 vi avevo letto il post dell'avvocato sandri e poi quello di ali avvocati liberi questa è la sentenza che purtroppo non si legge bene oggi per completezza di informazione vi leggo anche il parere dell'avvocato alessandro fusillo ancora sulle multe over 50 sta facendo il giro della rete una sentenza di annullamento di un avviso di addebito del giudice di pace di velletri le sentenze hanno effetto solo per le parti del processo pertanto la sentenza di velletri riguarda solo il ricorrente e l'avviso di addebito impugnato che ha affermato che crolla tutto da un'informazione errata ora anche se qualsiasi annullamento delle indegne multe ai no buzz sia da salutare con favore la sentenza di velletri appare alquanto confusa la motivazione si limita ad un solo punto e cioè che agenzia delle entrate riscossione non sarebbe competente ad irrogare la sanzione perché la competenza apparterrebbe al ministero della salute la terminologia è impropria la sentenza parla di legittimazione attiva mentre si tratta di competenza e la tesi sostenuta dal giudice di pace è errata vediamo perché l'articolo 4 sexies comma 3 del decreto 44 del 2021 dice testualmente che l'irrogazione della sanzione è effettuata dal ministero della salute per il tramite dell'agenzia delle entrate riscossione non è vero quindi che ader sia incompetente e comunque la questione delle multe riguarda un tema di principio l'autodeterminazione sanitaria non un problema burocratico di suddivisione di competenze taluni hanno affermato che la sentenza confermerebbe la correttezza dell'applicazione del rito delle opposizioni a sanzione amministrativa anche questo errato la sentenza non dice nulla perché il giudice non si è posto il problema se avesse fatto qualche ricerca avrebbe constatato che l'articolo 4 sexies comma 6 espressamente prevede che ader provvede in deroga alle disposizioni contenute nella legge 689 del 1981 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo in deroga significa che non si applica la legge 689 dell 81 il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pertanto non si applica nemmeno il termine di 30 giorni per l'impugnazione delle sanzioni amministrative come evidente dal testo degli avvisi di addebito che in questo termine non fanno menzione i giudici di pace che sono migliaia decideranno ogni volta sulla base della loro individuale sensibilità e cultura giuridica ad oggi gli annullamenti che ci sono stati non entrano nel merito dell'aggressione dello stato all'integrità corporale dei cittadini e del principio di autodeterminazione sanitaria questa è la partita che si sta giocando mentre si fa un gran parlare della modesta sentenza del giudice di pace di velletri sta passando sotto silenzio una sentenza del tribunale di napoli che ha demolito le sentenze della consulta dichiarando illegittimo l'obbligo della pozione dei militari e io ho fatto il video avvocato ne ho fatti due l'impugnazione degli avvisi di addebito prima del primo luglio 2023 è un'iniziativa inutile anzitutto le sentenze sono appellabili e in appello non ci si potrà difendere da soli ma sarà necessaria l'assistenza di un avvocato per cui occorre vedere se ader ricorrerà in appello in secondo luogo le multe sono sospese non c'è rischio di esecuzione forzata e gli avvisi di addebito non vanno pagati inoltre qualunque causa è connessa al rischio di perderla e di condanna le spese per cui prima di assumersi il pericolo di una causa bisogna essere certi che si tratti di un'iniziativa necessaria io non penso sia corretto consigliare alle persone di rischiare inutilmente ad oggi è meglio attendere e verificare se il governo manterrà la promessa di annullare le multe se non lo farà ci sarà tempo per impugnare gli avvisi di addebito infatti molti giudici di pace stanno rinviando le cause a dopo il 30 giugno per verificare se l'annullamento definitivo sarà stato attuato per legge quando e se arriverà il momento metterò a disposizione di tutti gratuitamente i modelli di impugnazione e le istruzioni necessarie per impugnare gli avvisi di addebito voi che idea vi siete fatti di tutto questo fatemelo sapere in un commento se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale